Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste, quest'oggi in studio con noi abbiamo Francesco Reitano, responsabile del Capo Rasocolmo Summer Fest. Ciao, benvenuto. Grazie. Allora, parlaci un po' di questa manifestazione che è iniziata il 24 giugno con la presentazione di un libro. Parlaci un po'. Sì, il Capo Rasocolmo Summer Fest si svolge all'interno della nostra tenuta, che è la tenuta Rasocolmo, dal 2018 ormai. Abbiamo cominciato a realizzare gli eventi estivi all'interno della nostra cantina vinicola. Quest'anno il cartellone si preggia di tanti artisti, musica, teatro, libri, arte. e si è cominciato appunto il 24 con la sezione dedicata ai libri e abbiamo presentato al Centro del Fuoco di Oriah Mountain Dreamer, questa scrittrice americana che è stata pubblicata per la prima volta in Italia da una nuova casa editrice catanese, tutta al femminile, NUS editrice, hanno queste due ragazze, diciamo ragazze, queste due donne, Chiara Giordanella e Giuditta Busà, che hanno fondato questa casa editrice e con noi hanno deciso quest'anno di essere partner del Summer Fest per la presentazione dei libri. Quest'anno, dicevi, la rassegna si divide in quattro sezioni, arte, libri, musica e teatro. Esatto. La prima parte dedicata al libro, l'abbiamo detto, è stata il 24 di giugno. Ce ne sarà un'altra il 16 di luglio. Il 16 di luglio. Marietta Salvo, a moderare l'incontro. Mentre per quanto riguarda la parte artistica, si è svolta il 30 giugno una mostra personale di due pittrici che sono Alba Lamantia Palermitana e Morro di Messina, due acquarelliste. Due acquarelliste, ha riscosso un notevole successo, dall'altro. Ha riscosso un bel successo, il pubblico l'ha apprezzata e ci segue ormai da tanti anni la critica d'arte messinese Maria Teresa Zagone, che si occupa proprio della sezione artistica e seleziona ogni anno gli artisti che poi vengono ad esporre le loro opere nella tenuta. E le opere restano, dopo il giorno del vernissage, per un mese. Per un mese, perciò chi verrà a visitare la tenuta Capo Rasogolmo potrà ancora vedere anche acquistare in realtà. Pure. Sì, perché gli acquarelli, le opere che gli artisti portano, ovviamente si possono acquistare. Perfetto. Poi ci saranno tantissime altre manifestazioni. Abbiamo anche il 9 luglio, la parte musicale è stata... Comincia, anzi, siamo già al secondo appuntamento. Infatti il primo appuntamento è stato il giorno 9 con Manuela Cunna e Sebi Burgio e Michael Rosen che hanno aperto la sezione musicale. Sì, direi tre professionisti di altissimo livello. Parla un po' di questa serata. Manuela Cunna, cantante siciliana con grande esperienza internazionale e Sebi Burgio pianista di grande livello insieme a Michael Rosen, al Sachs, Michael Rosen, tanto per dire qualche collaborazione... Renato Zero? Ecco. Nessuna. Nessuna. Ne dico solo uno. Questo è il livello che ormai riusciamo a realizzare. Nelle edizioni precedenti gli ospiti che abbiamo avuto in rassegna, in Summerfest, ti dico Tosca o Mario Venuti. Nomi di un certo spessore. Sì, l'idea del Summerfest è quella di un piccolo contenitore d'arte di alto livello. Infatti accogliamo sempre poche persone, cioè i biglietti disponibili vanno dai 50 agli 80. Basta. Quello è il limite massimo. E il limite perché la mia idea di accoglienza turistica in cantina è sempre quella di far godere alle persone intanto il luogo. Infatti è un luogo mossafiato come si vuol dire. Caporaso Colmo è unico a Messina. Noi siamo proprio sopra le montagne di sabbia dove c'è il faro di Caporaso Colmo. Il silenzio e l'atmosfera che si respira lì a Caporaso Colmo è unico. E gli artisti, a dirti la verità, cominciano a desiderare di esibirsi da noi. Beh, è una cosa bella, una soddisfazione. Assolutamente, assolutamente. Allora, ricordiamo dove si trova la tenuta a Raso Colmo, è incontrata a Piano Torre, Vico degli Ulivi. Esattamente, per i messinesi, tra Spartà e San Sabba. E San Sabba. C'è questa piccola frazione che si chiama Piano Torre. Bisogna scendere poi verso giù. Noi siamo proprio sul mare. È quasi. È un promontorio marino, Caporaso Colmo. Abbiamo anche un sito internet che è www.tenutarasocolmo.com dove si possono prendere i biglietti per tutti gli eventi, direttamente dal sito. Possono visitare il sito tranquillamente per scoprire tutto quello che avviene. Anche i vini. Noi siamo cantini. Prima di tutto noi facciamo vino. Poi abbiamo deciso di fare elopurismo. Si aggiunge l'arte, la musica e quant'altro. Esatto, la parte culturale. Per info e prenotazioni 393-33-43-760. Mi hai rovinato perché è il mio numero di telefono, ma è così. È proprio così. È pubblico, è pubblico. E poi io, tra l'altro, sei anche un bell'uomo. Non sei il mio tipo, però va bene. Allora, parliamo ancora di altre cose. Ci sanno solo che il giorno 15 ci sarà un altro evento particolare. Ci sarà esattamente Tony Canto insieme a Giuseppe Milici. Giuseppe Milici e Vincenzo Virgilito. Tony, oltre ad essere un vecchio amico, è un grande artista. Tony è abbastanza conosciuto qui a Messina, soprattutto. Quasi ogni anno lo invito ad esibirsi. Non ha mai rifiutato. Non si può rifiutare mai. E non si può rifiutare. Quest'anno, quest'anno, abbiamo deciso, gli ho chiaramente detto, sapendo che aveva fatto il tour in Brasile, quindi grandi collaborazioni, viene a presentare il nuovo progetto da me. Per la prima volta presenta? In assoluto. Quindi il progetto di Tony e dei suoi colleghi che lo accompagneranno quella serata viene presentato alla tenuta a raso colmo. Il progetto si chiama Ritratti. Una bella soddisfazione. Assolutamente. Tony è un grande artista. Per quanto riguarda il teatro, parlaci un po' del teatro. Beh, il teatro intanto, un'ultima cosa sulla musica, ogni sezione ha i suoi direttori artistici, la direzione artistica per la parte musicale è affidata ad Atena Produzioni di Claudio Iudicelli, quindi un grande manager che è riuscito a mettere insieme un parterre di artisti non indifferente. Dico, dopo Tony arriva Luca Madonia, esattamente, dopo Luca Madonia arriva Francesco Cafiso, che non si esibisce così spesso. Ok, fino a quando ci saranno queste manifestazioni? Allora, la parte musicale si conclude ad agosto il 27, che è domenica, con una grandissima artista siciliana che è Simona Sciacca, che presenta il suo progetto Canto di terra, Vuci di donna. Poi ad agosto comincia la sezione teatrale, che è curata da un regista messinese che ritengo tu conosca, Roberto Buonaventura, figlio d'arte. E' fatto. Roberto ha cominciato questo progetto in tenuta rasocolmo che abbiamo chiamato Promontorio Nord, proprio perché Caporasocolmo è il punto più a nord della Sicilia. E quindi Roberto si è innamorato di questo spettacolo, di questo panorama, perché poi tutti gli spettacoli, che siano teatrali o musicali, vengono fatti al tramonto. Dalle ore... Dalle 7, circa... 18-19 in po'. Dalle 7 alle 8 e mezza. Quindi è proprio l'esatta durata del tramonto, senza luci, al naturale, con il sole dietro le isole olie. Perché da lì sono tutte le isole. Si vedono le isole e si vede proprio il tramonto del sole. Assolutamente. Quel sole rosso che si corica, si va ad adagiare sul mare, una cosa bellissima. In questo momento tramonta tra l'Ipera e il vulcano. Sì. Ce l'ho ogni giorno. Non mai, certo, tu giustamente lo conosci abbastanza bene, sai, tutti i movimenti, diciamo. Parlaci ancora di questa... Come è nata l'idea nel 2018 di questo Capo Rasocolmo Summerfest? Allora, in realtà noi si parte nel 2003 con l'attività di produzione vinicola. Lì a Capo Rasocolmo produciamo la Doc Faro, quindi la doc proprio del comune di Messina. Poi ormai ci siamo anche avventurati in altre produzioni, quindi in altri vini. Facciamo un mamertino, facciamo delle bollicine d'inzolia, un bianco inzolia, fermo e anche un idromiele. Interessante. Interessante, interessante. Vi invito perché la tenuta è aperta tutti i giorni per le degustazioni, quindi basta prenotare... Da che ora a che ora? Fascia pranzo, fascia cena, diciamo. Fascia sole, fascia tramonto, ecco. E quindi abbiamo ogni anno tante persone, sia italiani ma moltissimi stranieri, che ci vengono a trovare in tenuta per fermarsi e fare la degustazione. Ma il progetto è quello di un wine resort. E così è nato l'idea. E così da lì, anche vista la mia passata, la precedente esperienza nell'area eventi, marketing, ho deciso, vabbè, è una location bellissima, abbiamo degli spazi incredibili, sfruttiamo questo set assolutamente naturale e cominciamo a organizzare gli eventi. E così negli anni, ormai dal 2018, sono sei anni, che riesco a farlo perché poi viene tutto fatto. Lo fai da soltanto? Ti autofinanzi? Assolutamente, io mi autofinanzio, chi viene ci aiuta, perché ovviamente ci sono dei biglietti da pagare, ma non ci sono finanziamenti diversi. Da parte di nessuno. Assolutamente. E perciò una soddisfazione veramente enorme, impagabile. Ricordiamo allora dove si trova la tenuta e tutti i modi per poter, adesso lo dici tu, così non ti rovino io. L'indirizzo è esattamente strada statale 113, chilometro 23 e 2. Esattamente a quel chilometro si trova Piano Torre e da lì c'è una piccola chiesetta che si chiama la chiesa di San Biagio di Piano Torre. Una traversina che porta giù al mare, appena imboccate quella traversa, subito a sinistra, nella strada sterrata, dove c'è il cartello. Facciamo finta che veniamo dalla zona di Torre Faro. La chiesa ti viene sulla destra. La chiesa viene sulla destra. No, appena prima della chiesa, attaccato, c'è la discesa. Mentre se vengono dalla... Da Villa Franca la chiesa resta a sinistra. Resta a sinistra, dopo la chiesa la prima stradina. Immediatamente. A sinistra. È attaccata la chiesa. Un recapito ce lo vuoi dare? 393-334-3760 per le informazioni. Per i biglietti direttamente sul nostro sito tenutarasocolmo.com Che io alzo le mani, hai detto tutto tu, ti sei rovinato da solo. Ci sono tutti gli spettacoli, basta cliccare sullo spettacolo che preferite, prenotate, pagate direttamente online e avete il posto. Ok. Che sono 80 al massimo. Noi... Ah, è importante. Sì. In tutti gli spettacoli, in tutti gli eventi, la formula che quest'anno abbiamo immaginato è quella dell'aperitivo più lo spettacolo. Sì. Quindi chi viene a uno degli spettacoli, prima di cominciare gli viene offerto un nostro aperitivo, quindi assaggia le nostre bollicine, poi se lo desidera, questo lo può prenotare anche online, fa anche la degustazione. Quindi si ferma, diciamo, per cena. Lo può fare benissimo. E in più assiste allo spettacolo durante questi eventi. Passa una serata con noi dalle 7 fino alle 10, 10 e mezza. Una serata bellissima, dall'altro, perché ora che arriva l'estate... Inusuale. Trascorre in un posto incantevole, come Capo Rasagolmo, è veramente indescrivibile. Capo Rasagolmo, per chi non lo conosce, mi sa che siamo in chiusura, è veramente un posto unico. Unico, unico, e io ho avuto la fortuna di poterlo, diciamo, tra virgolette ereditare, perché era una vecchia proprietà di famiglia dal 1950, e trovarlo così com'era, quindi senza costruzioni, devastazioni o robe di questo genere. Per cui abbiamo solamente ripulito, tirato fuori quello che era proprio il suo aspetto naturalistico, totale. Che cos'è rimasto? Assolutamente. Naturalmente la manutenzione ordinaria ci vuole. Quella costa, quella costa parecchio, sono 15 ettari di tenuta e insomma... Sono tanti. Sono tanti. Va bene, allora ti verremo a trovare. Vi aspetto. Per convalidare il tutto, eh. Assolutamente, accetto le sfide. Ok, allora ringraziamo Francesco. Grazie a voi, grazie a te. Per essere stato qui con noi in questo appuntamento, il cocktail musicale, le interviste. Ringraziamo anche la produzione Hans TV. Appuntamento alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.